La qualità del Pulcici è importante per tutti gli utenti, ma nella pratica non è sempre chiaro se il materiale sia ancora utilizzabile o no. Lo definiamo funzionale o non funzionale. Mi trovo presso Container Centralen qui in Olanda e parlerò con qualcuno che sa tutto sull'argomento. Ciao. Ciao, Sander. Ciao. Qui hai raccolto alcune basi. Puoi dirmi quali di queste basi sono funzionali e quali no? Nessuna di queste tre è funzionale, per essere chiari. In questa, il compensato è quasi completamente rovinato. Già, sta quasi... si sta staccando. Esatto. Non è più funzionale quando appoggi dei prodotti e possono cadere facilmente. Non funzionale. Non funzionale. E questo? È completamente crepato. Ovviamente. Esatto. Questo deve essere riparato il prima possibile. Sì. Puoi restituirlo e ricevere in cambio una base funzionale. Ok. E questo sembra tutto bagnato. Lo è. Si sta staccando tutto, mi spiace. Ha un grande buco. Di sicuro questi non si possono utilizzare per caricare i nostri prodotti. Capisco. Questo non è adatto all'uso. Non è funzionale. Adesso stiamo guardando solo il compensato. Bisogna guardare anche le ruote. Hai altri esempi? Ho altri tre esempi da mostrarti. Mettiamoli qui. Ok, Sander. Ok, Sander. Tre nuove basi. Beh, non proprio nuove. Pare che non funzionino più. Sono usate. Tre esempi. In questo caso c'è un problema grave con la ruota. Tutta l'unità è rotta, quindi non è utilizzabile. Sì, è abbastanza ovvio. È quello che si dice non funzionale. Su quest'altro si potrebbe discutere. Oh, le ruote non funzionano. Chiediamo ai nostri clienti di occuparsene direttamente. Un carrello così non verrebbe accettato. Non è funzionale nei nostri magazzini. Stai dicendo che le ruote sono bloccate dalla plastica e dalle corde. E che i tuoi clienti e acquirenti dovrebbero smontarle. È un'operazione facile. Richiede pochi minuti. Così non dobbiamo inviare il carrello per la riparazione. Che questa base funziona. È una base funzionale. Ok, e la terza? Questa è più difficile. Non vedo grandi problemi. No, aspetta, lo vedo. È questo, vero? La ruota è storta. Sì, ha una piccola incurvatura. Questo carrello non è facile da movimentare. Vi è il rischio che cada una volta caricati i prodotti dei nostri clienti. Sì. Bisogna considerare anche la sicurezza degli operatori. Quindi anche questo non è funzionale. Quindi questo verrà sostituito. Quindi di questi tre, questo non è funzionale. E nemmeno questo. E questo è funzionale, perché puoi ripararlo direttamente. Abbiamo guardato le ruote e il compensato. C'è altro da controllare. Sì. Talvolta riceviamo carrelli completi con una crepa sul telaio. Probabilmente per un incidente con il carrello. Sì. Sono danneggiati. Può succedere. Dall'altro lato vi sono montanti danneggiati. I perni quindi non si inseriscono. I perni vanno in questi angoli. E quindi se sono danneggiati non entrano. O il fondo è completamente aperto e il perno passa attraverso. Il carrello quindi non può essere caricato o utilizzato e non è funzionale. E viene sostituito. Sembra ragionevole. Ok. Ok. Grazie molte, Sander. Ora so cosa significa funzionale o non funzionale. A presto. Grazie. 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 Grazie a tutti